Cari amici Vapers, buonasera dal dilettante dello Svapo, un saluto a tutti quanti, amici vicini e lontani. Quest'oggi parleremo di un illiquid che ho comprato presso un negozio fisico, in quanto io mi rego qualche volta in qualche negozio a vedere qualche novità, anche se maggiormente i miei acquisti li faccio su internet, ed è uscita una nuova linea, la linea Verb della Smoke, che è composta da dei liquidi molto interessanti, uno dei quali è il Caracas della Smoke. Questo Caracas, in boccetta da 10 ml, al costo di 5 euro, viene presentato come un liquido a rum, dorato, invecchiato in botti di rovere per 24 mesi. Diciamo che non è un liquido organico, è un liquido normale, va parlo con sistemi normali, e adesso lo proveremo, e dovremo sentire cosa ne penso. prendiamo l'hardware, un semplice Jaspog 1453, e iniziamo, un, due, tre, via! Sì, cari amici, questo è un ottimo liquido, proprio si sente il sapone del rum, però non si sente quella nota alcolica che disturba, ma è una nota molto dolce, molto piacevole al gusto. Ecco, consiglio di sbavare questo liquido o sotto le stelle, oppure davanti al caminetto mentre si sbucciano delle calde arroste, oppure davanti a una fetta di lime, oppure davanti a del crema di caffè. Ecco, questo è un liquido che va gustato in quei momenti. Ecco, se ci fosse Franco Franchi, insieme al tuo collega Ciccio in grafia, direbbe, Ciccio, questo è liquido, è ottimo, direi! Oppure se ci fosse altro Fabrizio, cosa direbbe? Beh, mi faccio la carbonara, poi mi faccio il piatto dei spaghetti, mi c'è meglio una coda vaccinata, però alla fine mi faccio una sbavata di caragas e digerisco pure i sassi. Ecco, amici miei, questo è il caragas, una liquida da smoke che veramente mi ha emozionato, questa è la parola giusta, quindi vi consiglio a voi di acquistarlo e dare un giudizio anche voi su queste liquide. Per il momento vi saluto a tutti quanti, ci rivedremo su questi schermi e un arrivederci, questo non è certo un addio, ciao, ciao!